Salve a tutti amici e stasera voglio condividere con voi questo momento del draft giocatore singolo Perché nell'ultima settimana ho conquistato un gettone draft e quindi adesso vediamo un po' che rosa mi metterà a disposizione per fare questo draft Dai ragazzi andiamo, andiamo a vedere un pochettino, lo usiamo un gettone? Sì, usiamolo Più tutto a livello, vabbè andiamo sul sicuro, giochiamo a livello esperto O livello campione, no livello esperto, dai così siamo più probabili che vinca, dai Non gioco da un po' di tempo e quindi così, vediamo un po' che ti, uno schema frizzantino, voglio fare un bel 3-4-2-1 Bello allegro, vai col 3-4-2-1 frizzante, voglio aggredire tutti, vai Ora vediamo un po' che cosa ci offre, chi vogliamo come capitano della squadra? Diego Costa, Quaresma, Parejo, Varane, Kane, Harry Kane Di davanti, Harry Kane Ce lo portiamo, il bomberone Completiamo la rosa, come attaccante destro, vediamo chi ci vuole Bappé, Salah, Luis Figo, Marez, Bernardo Silva, attenzione E non so se giocarmi subito Luis Figo Oppure mettere Salah, che poi c'è anche intesa, però Salah c'ha l'intesa, quindi mettiamo Salah, mettiamo Salah, mettiamo Salah C'ha anche l'intesa con Harry Kane Vabbè, dopo uscirà qualche altra cosa, siamo fiduciosi che uscirà qualche altra leggenda da mettere nella squadra Nel frattempo vediamo come c'è nella pista centrale In questa pista centrale, chi ci offre? Iniesta, Rakitic, Paolinho, Fabregas, Pjanic Attenzione Ebbè, diciamo che dal lato Rakitic è il più forte Dall'altro Paolinho, però, è sempre il cambiato inglese Quindi mettiamo Paolinho, ma che ci può dare una mano Ed è anche quello un po' più veloce tra questi altri giocatori Vediamo vicino a Paolinho chi vogliamo mettere Vediamo un po', vediamo un po' Eggestein, Juan Jordan, Boateng, Coombs, Renato Sanchez Beh, diciamo che nessuno di questi, mi sa che ci aiuta Per il cambiato inglese, quindi prendiamone uno che ci piace Prendiamo su via Renato Sanchez O John Jordan, no, proviamo John Jordan Che non sappiamo chi sia, ma ci può dare una mano Nel frattempo alla sinistra per completare l'attacco Vediamo un po' in attacco chi mettiamo Alla sinistra, Mane, addirittura qua c'è tutta la coppia di Liverpool Il giovane Clever, Bruno Fernandes, Sanchez Vinicius Junior, amici E chi vogliamo prendere qua? E a questo punto proviamolo, dai Vinicius Junior se l'è meritato, dai Sarà la nostra punta di diamante, perché se è così giovane ma ci farà sognare Andiamo in difesa, in difesa centrale Boateng, Coombs, De Vrij, Otamendi, Godin Beh, non esageriamo, metteremo Notamendi Sperando che poi ci arrivi un bel portiere Più notevole Portiere, portiere, vogliamo il portierone, vogliamo il portierone Schmeichel, Neto, Navas, Courtois Lloris, vai con Lloris Difesa Altro difensore centrale, chi prendiamo? Alder Venel, Sergio Ramos, Hummels, Piquet, Marquinhos Beh, attenzione, qua Andiamo a mettere Sergio Ramos, se non faccio passare più nessuno Vai con Sergio Ramos, dai E da quest'altro lato invece Ma i giocatori frizzanti oserei dire, qui attenzione Quindi qua veramente siamo un po' disperati Elli, quindi mettiamo un bel Arbiglia, va Giusto per dare un senso Oserei dire anche che mettiamo un cambio così Alla sinistra, esterno sinistro anzi Frank Ribéry, Bernard, Nani, Inui O il Giovane Hazard E vabbè, a questo punto facciamo la squadra titolare a alto livello Mettiamo anche Ribéry Mettiamocelo Ribéry Questo è meritato E come esterno destro invece, chi ci capiterà? Marcello, Pulisic, Joaquin, Forrest e Pepe E vabbè, a questo punto facciamo lo squadrone Ma mettiamo Marcello pure Che fa Una buona intesa con alcuni di questi giocatori E vediamo un po' tra le riserve, chi ci capiterà Prima di tutto, portiere Proto, Mateus, Farman, Babacanno, Tatarusano A questo punto prendere un portiere scarso, sì Cerchiamo di far arrivare poi un Qualche scelta migliore dopo Come seconda riserva, vediamo un po' Uuuuh, Alexander, poi non c'è il terzino sinistro Quindi non ci serve Alderweire, Varane, attenzione Qua mettiamo Varane insieme con Sergio Ramos E la difesa diventa impenetrabile, oserei dire Mettiamo quest'altro lato Grimaldo Hummels, Marquinhos E mettiamo Marquinhos Anche tanto Terzino e SSC non ne ho nella mia squadra Quindi non mi servono Quindi devo prendere i suoi difensori centrali Quest'altro ruolo invece Uuuuh, il giovane Arthur Uuuuh, il grande Eriksen, attenzione Il buon Eriksen da centrocampo ci serve sempre Herrera, Hanni, Tadic, Balde, Portu Ma, andiamo con Portu, ma Andiamo fiducia al giovane Portu Dove è stato trovato invece? Chi sono? Lezcano, Nildo, Petolina Benjeder, Dica Muni Veramente sono delle puzze Quindi vedete Benjeder Dove attaccante Da quest'altro lato invece Uuuuh Un altro portiere da ghia non ci serve Eccade, è uscito un porterone Ma Terzo portiere non ci serve Attenzione se non ci serve Nani Prima non Anida Oh no Stati a sinistra No, ha preso già Abbiamo di Davi Stati a sinistra Già avevo preso Portu Quindi stiamo a posto così Ora Vediamo le altre riserve Diciamo che dobbiamo prendere Un altro difensore centrale Un altro c'è una pista centrale Un'ala destra E gli attaccanti Eh, attenzione Qua Prendiamo il buon Sané Come riserva di Minisius Junior E come Quest'altro ruolo invece Come Uuuuh Il mio compaesano Quagliarella Come faccio a non prenderlo? Grandissimo Grande Fabio Ci vuole Nella mia squadra Tra tanti campioni Tu ci meriti Di essere lì Forza Forza Fabione Sterling Ci può servire Attenzione L'ala destra Sterling Eh Quindi abbiamo Alla assist Adesso Attaccante Ce l'abbiamo Due centavisti centrali Ce l'abbiamo Mi serve un esterno destro E un difensore centrale Qui in queste due scelte Così per completare La panchina Esterno De Messi Eeeh 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 E come si fa a non prendere Messi? Messi è proprio Eh, non sarà un esterno destro Però diciamo che è Messi Come si fa a dire di no? E infine Qui vediamo se esce un difensore centrale Non esce manco Un difensore centrale Quindi Possiamo prendere Tra tutti questi Attaccanti non mi servono Hector nemmeno Nelson Semedo Portiere Terzo portiere Non ci serve proprio E prendiamo Nelson Semedo Va E con questa Abbiamo fatto La nostra rosa Eccezionale Lo mettiamo Questo qui Mettiamo Varan Al posto Qui Marchignos Al posto di Otamendi Qui E poi Poi Qua abbiamo E penso che Con tutto il cuore Per Salah Però penso che Diciamo che c'è L'obbligo di Di mettere Messi In campo Con Salah In panchina Quagliarella In panchina Sané In panchina Anzi Sterling A questo punto A posto di Salah In panchina E poi Mettiamo Nelson Semedo A posto di Questo E Che ovviamente E no E quello è portiere Ci serve Il secondo portiere Quindi Va bene così Ragazzi Abbiamo Questa rosa Siamo carichi Per iniziare Il nostro La nostra avventura Scegliamo Un allenatore Qua Ci vuole Un bel Che magari Ci aiuta A dare un po' Di Maggiore stabilità Alla squadra Vabbè Adesso abbiamo Una grande rosa Adesso bisogna Solo giocare Quindi Vi aggiornerò Con i risultati Delle partite Grazie a tutti Al prossimo video Grazie a tutti